E' bello! E' bello, no? E ho detto che vengo, vengo! Chi c'è? Amici! Chi sono? Gemini! Oh! E' impossibile, Minuzzo, tutte le volte che venga a casa con un violetto! Sembra la stessa storia con voi, me lo capisco! E va bene, ma lei mi ha detto! Cosa vi ho detto? Vi ho detto di non aprire con troppa facilità! Di domandare sempre chi c'è, perché non si sa mai, vero? Alla porta, ma quando sentite la mia voce... Ma che l'è già tardi e ho fame, l'è pronto? Cosa? Ho detto che l'è già tardi e ho fame se l'è pronto! Ma cose? Come cose? Per uno che ha fame cosa deve essere pronto! Il tramvai mica per uno che ha fame! Ma le signore non sono ancora ritornate! Non sono ancora ritornate? Pensiamo! E poi mi dici anche presto! E poi mi dici anche presto! E poi mi dici anche presto! Quando le faccio aspettare che hanno da andare in Vila! Ma a che ora sono andate queste? Non erano nemmeno le notte! Ostia! Lascio quasi cinque ore fuori di casa! Voi andate in cucina! Andate in cucina buttate! E va bene, ma le signore! Ma ve l'ho dito che vuole! Guardate! Ma cosa vuole che sappia? Prima di tutto levarmi l'anima per mettere in ordine la casa! Fare i letti, dare la bancheria da lavare! Fare la colazione e poi subito cooperare! Torno, taffete! La signora mi manda dalla sarta! Accendo il fuoco per mettere sulla pentola! La signorina mi chiama perché vado a petenarla! Non ho ancora finito che devo mettere la roba nelle ceste per andare in Vila! Io questa vita non la posso più fare! Se lei vuole che me ne vada! Me ne vado che non mi fa nemmeno un veo! Buttate la pasta e poi vanno andate! C'ha senti? Mi vale quanto fai! Poi c'ha diria che a me ne... Mica mi è stata un schiupo un defuta che io non lo so quello che farei! Oh! E poi ho detto un po' stamattina la Gigia, mia moglie, mi sveglia... Non erano nemmeno le cinque! E mi diceva, mi raccomando! Veni a casa presto perché abbiamo da andare in Vila! Vila! Ragni, mosche, zanzare! Cosa c'è di zanzare? In quel paese... Non so le zanzare! Dice l'acqua! E' l'acqua che fa le zanzare! L'anno passato siamo stati venticinco giorni senza acqua! L'andavano a prendere in un paese lì vicino a un chilometro e mezzo! L'acqua non c'era! Ma le zanzare c'erano! C'erano le zanzare! Erano lì che aspettavano l'acqua le zanzare! E poi dice mi salto la colazione vengo a casa pieno di fame! Le signore non ci sono stanno fuori quattro o cinque ore! E poi quando... E mi sono... La padrone! L'ha portato! Come? Se l'ha portato! Cos'è? Il pesce! Il pesce! Il pesce! Mi dovevo portare il pesce! Mi? Mi? La signora mi ha detto che il pesce lo portava lei! E mi devo sognare di portare il pesce! Ma la signora non ce l'ha detto! E non mi ha detto un castellazzo niente! Non mi ha detto niente! Adesso te la dico bella! Cioè? Io non ho comprato niente e in casa non c'è niente! Non c'è niente! Andate a farvi leggere voi e tutte le donne di questo modo! Non mi dice niente! Ha detto che mi devo sognare di portare il pesce! Oh! Mi ha messo l'atto un schiupum da... Eccati qua! E' tardi eh! E' tardi eh! E' tardi eh! E' tardi a un padrone! E' già arrivato il padrone! C'è già... C'è già... C'è già... Stefano in casa! Il padrone in casa! E' già arrivato! Oh per l'amor di Dio! E' Mettilde! Allora vai di là eh! A metterti un po' in ordine e levarti... Mamma cara! Il vestitino da castello! Lasciami un po' sedere perché sono proprio stanca! Oh! Sono tanto stanca anche me! Ma tanto stanca che non ne posso di più! Figuratevi che siamo andate dall'Asia e non c'era! A me non è perso nemmeno vere! Ah poi eh! Dico! Siamo andate dalla Sarta! Ah giusto! Ma io vorrei un po' sapere! Ecco io vorrei un po' sapere! Fino a dove arriva la vostra discrezione! Ecco! Ciao papalino! Ma che ciao papalino? Oh fame ciao papalino! Ciao papalino! Ma come mai Stefano? Come mai sei già in casa? Ah? A meni me domanda... Sei sono già in casa vero? Si sei già in casa! Non sapevo dove andare! Ho detto andiamo un po' a casa! Io non so! Vi sticci hanno sempre questi qui! Ahimemi! E ma... Scusi me! Scusi me! Stamattina ho mai svegliato alle cinque! Già alle cinque! Per dire che fosse presto che non mi dimentichi che abbiamo di andare in villa e non basta! Mi hai... E non basta! E mi hai... Eh? Eh? E non... Chi lei? Ah! Cucina! Cucina! Non basta! Ma hai accompagnato fin sulla porta per ripetermi che non ritardi! E non basta! Ma hai ricordato lui! Ma hai ancora mandato dietro per le scale a ripetermi lui quello strassù di là di una serva! Per dire che io non ritardo! Per dire che io non ritardo! Beh! Come sarebbe a dire strassù della serva! Ah! Avete sentito? Eh? Mi pare no? Ve l'avevo detto da andare in cucina! E allora? Bene! Bene! Insomma mi mandi dietro per le scale questa... Mi mandi dietro per le scale! Eh? Sì! Mi mandi dietro per le... Questo strassù della serva! Non si può dire differente! Se cambio... Se cambio... Se cambio... Se cambio di culo... Serva di un strassù... Va bene! Mi fanno cammino... Scappo di Portofranco... Salto la colazione... Vengo a casa pieno di fame... La signora! Non ci sono! Sono pure 4 o 5 ore... Quando vengono qua... Sa patata lì... C'è una carica... Ma... Cosa fateli? Ma si disna o non si disna oggi? Eh... Va bene! Vado a mettere il tavolo! Ma perché ancora da mettere il tavolo? Ancora da mettere il tavolo! Ancora da mettere il tavolo! Mi fai usci da te stanta randate! A mettere il tavolo! Ah! Giusto eh! Ah! Signora! Non l'ha portato! Ah! Questa poi! Eh! E' un pesce! Eh! Non mi ha detto che il pesce... Lo portava al padrone! Come mai non l'hai portato? L'hai portato alle banane? Ma ti scherzi! E mi... Mi porta a casa le banane? E va bene! E mi devo portare a casa un pesce! Perché? 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 Eh! Perché il pesce te l'ho detto stamattina! Eh! Delle banane te l'ho detto stamattina! Ma no! Gigi! Non ho mai detto niente! Non ho mai detto niente! Non te l'ho detto? Niente! E vabbè! Allora vuol dire che mi sono dimenticata! E poi tu fai cose qua, te stanto sacco! Poi che ne passa sono io! Si va bene! Andate a farvi leggere tutte quante ci siete! Mi aspeva! Basta eh! Basta eh! Basta eh! Basta eh! E voi muovetevi! Andate a mettere tavola! Cosa che fai lì? Incantata! Eh va bene! Andate a mettere tavola! Va bene! Io tavola la metto! Ma poi sulla tavola cosa ci metto? E pensiamo che in casa non c'è niente! Non c'è niente! Nella dispensa ci sono delle uova! Lo sapete anche voi! Ce ne sono due! Vabbè due! Non ne mangiamo mica 24 no? Due uova! Due uova! C'è anche quel vasetto lì di pomodoro! Ma due uova! C'è due uova! C'è lì chissà da quanto è! Ci sarà già il suo pulcino! Poi ti diria che io mi mangio due pulate con quella fare! Due uova! Con la fame con i due uova! Le come danci colate in un cavallo! La stessa cosa! Due uova! Hai finito? È un veneto! Oh ecco bravo! Sì! E allora sai cosa ti devo dire? Che davanti alle persone di servizio di queste scene non voglio che me ne fai! Capito? Quando hai da dirmi qualche cosa me lo dici quando siamo soli! D'accordo? Ecco! Quando siamo soli allora mi accria! Grida! Fai tutto quello che vuoi perché a me non interessa proprio niente! Va bene! Niente! Va bene! Ma dimmi un po'! Ma cosa ti credi tu? Sì! Che in casa non ci sia niente da fare! Eh? Mi dico! Di essere solo che ti affanate! Fa! Bregà! Sì! Guarda che tutto il peso della casa è sulle mie spalle sai! Che mi tocca fare tutta mia eh! Con quello straccione di una serva! Quello straccione di una serva che non è capace di fare niente! E ti ti vede tutto a puntino! Si capisce! E poi poveretto che fa! Poveretto che farpella! Tu ti ti è sempre un senso! Talla mattina esci! Esce! Fa un giro per banchi per Portofranco! Fa tre o quattro charles! E gli pare di aver girato il sole con le stange! Ma poi piacei che in casa ci sono dei mucchi di cose da fare! Bisogna! Bisogna! Da tenere pulite le stanze! Da stirare i camiciotti! Bisogna tutte le mattine fargli la riga nelle braghe! Perché se non hai la riga nelle braghe chissà cosa succede! E poi e poi e poi e poi ancora poveretto che ti domanda un aiuto un'altra persona di servizio! Allora sei solo capace di l'ambizione di fare ricchi! Voglio di fare niente! Voglio di buttare via dei denari! L'hai detto! L'ho detto! L'ho detto! L'ho detto! Una volta che mi avete tirato queste braghe qui! Lo ricordo benissimo! E' stato quando la bambina ha fatto la comunione! Un po' di agente! Ci sono delle scemate! E basta! E basta! Capisce capisce che in te una casa ci sia da fare! Ma perbacco! Io sono qui che sembra il figlio di nessuno! Mi pare di essere uno di quelli che dormono nei vagoni in porto perché non hanno la calda! Quelli che vanno a cercare la manastra dai frasi! Sono che con vergogna! Quando vado per la strada mi spegno in una vedrina e dico ma chi è quel disgraziato? Sono mio! Dico una amica 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 una storia! Dico guarda per esempio chi è Pursin! Ecco! Vedi chi è Pursin? Filo da tutte le parti! E' una vergogna! Da se c'è due punti! Che vuoi presto da due punti che hai da con me magari! E' una vergogna! Guarda le stringhe delle scarpe! Gigi non ti dico! Guarda le stringhe delle scarpe! Lo sai che a me ci vuole mezz'ora per scarpe con tutti quelli nodi che che è? Al mattino a mezz'ora per scarpe faccio un nodo se li sfacco l'altro, faccio quell'altro se li sfacco l'altro! Che tanti di quelli nodi ma tanti di quelli nodi che si che purivo di un rosario come quelle stringhe! E' una vergogna! 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 E' chi? Eh? 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 E' stacca tutte rosse, tutte le squadre! Metto una palanca in tasca! Boom! Buon terra! Ma per forza! Ci metti di tutto? Ci metto quello che ci vuole messo! No! No! Ci metti di tutto! Ci metti dei mucchi di fasoletti! Ci metti dei massi di chiavi! Ma per forza! Ci metti delle massite di notte! E allora vuol dire che andremo fuori di casa col cabaret sui cabaret i fasoletti! e non so mica storie! L'altro giorno in Via Luculi mi sento uno che mi mettono a mano sulla spalla! Per far guardi bell'uomo! Io l'avverto! ti hanno proprio detto bell'uomo! Mi dice guardi bell'uomo! Ma ti hanno proprio detto bell'uomo! Si! Bell'uomo! Ti hanno proprio detto bell'uomo! Bell'uomo! Era uno che mi era dietro e non mi vedeva! Mi dice guardi bell'uomo! Se guardi bell'uomo io l'avverto ma lei appesetto o appesetto lei perde la camicia! è una vergogna tutti i giorni me ne succede l'altro giorno l'altro giorno in piazza senare che vado a visitare un cliente quando sono messo a scala la portinaia mi fa indietro dicono molto dei parodi indietro che in questo caseggiato mi ha detto in questo caseggiato è proibita l'emogina ma detto ma davvero ma stanno presa per un po' ma fa forza ma non hai vergogna gia te l'ho mai raccontata quella dei raggi ma no che raggi? quella dei raggi non te l'ho mai raccontata non so niente sarà una settimana cosa ne è successa? una settimana ero lì a banchi ero lì a banchi e c'era piuttosto caldo c'era niente da fare c'era un bel sole mi hanno detto che ci sono dei raggi del sole che fanno tanto bene e raggi ultraviolenti e ho detto va bene intanto non c'è niente da fare mi prendo due o tre raggi mi sono levato il capello e ho detto vabbè prendo due o tre raggi ero lì che mi prendevo i miei raggi passa uno me lo ricordo benissimo passa uno con la barba si ferma e mi guarda e mi guarda dico se vede che mi conosce allora ci ho fatto gia mi ha messo due palanche in tuo capello e se n'è andato ah una vergogna una vergogna una vergogna ma non mi hanno ragione ah no gia gia vedi un po' no non ti dico questa poi non ti dico altro vedi un po' questa giacca vedi un po' questa giacca è una giacca marron lascia perdere il marron il marron è un marron chan chan ogni tanto c'è un po' di marron e va bene non c'è niente da dire può piacere ma questo è niente chiglia vedi un po' che ora e tre gassette tre gassette vabbè ma in genovese si dice gassette tre gassette eh guarda un po' da sta parte non che nemmeno c'è un bottone ma nemmeno c'è un pomelo non che nemmeno c'è tre pomeli poi ce n'erano due poi uno me lo ricordo benissimo era questo qui in mezzo l'ultimo pomelo l'ultimo bottone era questo qui in mezzo l'ho fatto durare più che è stato possibile poi ora è una vergogna cosa è me che metto una corda adesso per io capisco perfettamente che nelle case c'è da fare ma per bacco fatevi dare un aiuto la tua figlia che l'è sempre lì alla fine vuole leggere dei romanzi o l'è l'ha a finestra lì dove barco un cosci mia figlia è sempre così lì o guardare me non so cose forse a me non so tutte le volte che venga a casa al su gli occhi a lì mia figlia là quella lì non è più una signorina è diventata un vaso è diventata ma non vergogna ma cosa vorresti che facesse la sera? ma cosa io vedo che se si vuole c'è tempo a tutte le signorine che sono ben educate fanno prima quello che c'è da fare in casa lavano stirano streggiano magari per terra se occorre e dopo troverò il suo tempo per fare conversazione per leggere per quella è la vera educazione quello è il vero modo per educare una ragazza e farne una buona madre di famiglia invece quello è andato a patto giù nella pesta e dalla mattina alla sera per mettersi in mostra come dire guardate siamo qui qui c'è la figlia qui c'è la madre qui c'è la madre qui c'è la figlia e vediamo chi se la piglia e va bene non usciremo più nemmeno quando avremo da comprare qualche cosa ma no ma ti vedi che lui non vuoi capirla la cosa se capisce per comprare bisogna uscire ma voi altri state fuori tutti i giorni quattro cinque ore per comprare per comprare non so dovrebbero essere i magazzini generali a forza di comprare la questione no gigia la questione è capire non so magari per un rocchetto di filo quattro ore fuori di casa per comprare un rocchetto di filo quattro ore uno che deve comprarsi un vestito bisogna che stia fuori due mesi e mezzo carati ha una vergogna ha una vergogna la questione a lei che avesse l'ambizione di vedere e farvi vedere soli come lei che te lo dico io povero mone e povero mone se stessati povera metilde si sposerebbe il giorno del giudizio l'ambiente anzi se vado a girare e ben basta e ben con questo basta nescio che mi fa che ti mi riesci a ringraziare ma dimmi un po' ma cosa credi tu che di fare il bene delle signorine di tenerle sempre in casa chiuse sotto chiave eh dico chi vuoi che la sposi la tua figliola se nessuno la vede eh deve dire vabbè affitteremo un negozio e una bottega la mettiamo in vetrina cosciente tutti quelli che pagano oh 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 ma fa buffiagli ma finisci per ti lo stesso che si sposi e che non si sposi eh perchè almeno non avresti neanche da tirare a mezzo la donna uccolo c'è poco da tirare da tirare a mezzo ai me mi gianchite d'esserezza stigia già 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 guarda voi altri uomini voi altri uomini ricordatelo bene non capite niente 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 ed è per quello che prendiamo moglie niente la mia mamma ea stefa vai bravo vai vai a banchi vai a lavorare a lavorare a lavorare a lavorare a lavorare a guadagnare per la tua famiglia di quello l'uomo se ne intende ma di cose di casa non te ne sta intrigando? perché la donna è la regina della casa sicuro questo è il mio regno è il mio regno e nel mio regno infero io la regina della casa il regno è la regina cosa che? è altro signora cosa c'è? un'altra volta cosa c'è? il regno la regina della casa ora e pusate dove sono? io non le trovo il regno il regno è rimasto senza pusate la regina della casa la regina della casa è altro che la regina della casa guardate che mi pare di averle messe nella cesta su quale che le vado a prendere? beh per tutto detto vado a prenderle mi pare che sono in fondo del cuore allora per mangiare andiamo in fondo alla cesta che ci sono le pusate ci arrangeremo ci arrangeremo sicuro me ne vado in trattoria me ne vado in trattoria a me dice me ne vado in trattoria a me dice me ne vado in trattoria a qualche giorno vado a mangiare a me dice dove fai con mangiare? già da stamattina alle 5 che sono piedi con due pezzettini di pane un po' di burro e basta io ho fame io ho fame io la vedo la fame la vedo la vedo da che a un momento vado a finire non sarà dalla fame e mi dice dove vado vado a fare due passi vado a fare si vado a prendere un poco d'aria per farmi venire al petito ti capisci a me? perché no? sono qui sono qua ma brava ma brava quella ragazza ma mettilde ma cosa fai figliola? ma sei sempre lì a lavare? cosa vuoi che dicano questi signori? so come di notare no no signora mi dispiace di aver sorpresa una bella signorina diremo così in négrigie ma sono lieto di aver potuto così conoscere la sua buona educazione metilde cara hai sentito cosa ti ha detto il signore? e non si dice nulla si dice grazie signore grazie signore ma davvero tutto questo fa onore alla mamma no per carità troppo gentile giubiletto metilde te l'ho già detto tante volte non è vero certi lavori bisogna farli al mattino figliola mia e poi certe cose così materiali bisogna lasciarle fare le donne di servizio altrimenti se ci facciamo tutto noi e lo so mammina hai ragione ma si sa nelle famiglie c'è tante cose da fare se non facciamo tutto noi le donne di servizio sono una vera disperazione lo dica a me che ne ho tre ai giardini pubblici se mi permettono io se mi portano il bastone sempre così vai tesoro vai di là e ti metti un pochino in ordine vero e poi ti aspettiamo e ritorni ne vero vai tesoro vai veramente complimenti e vogliono accomodarsi se si accomodi grazie grazie signora se non disturbiamo grazie abbiano tanta pazienza oh ma mi dispiace tanto di averli ricevuti così male ma cosa vuole se loro sanno cosa vuol dire famiglia devono compatirci e poi nel pomeriggio si va in villa si va lassù e così naturalmente per questo che le vedranno un po' tutto come sul dirsi dosso e bordosso ma che cosa dice mai signora io anzi dirò che questa è una famiglia esemplare c'è quella signorina metilde poi che non ha paragonia no prego è troppo gentile oddio non perché la mia figliola ma veramente bisogna che lo dica a onore della mia metilde vede è una bambina quella che credano dove mette le mani hai sentito dove mette le mani si si sento di coloro hanno visto che era qui che lavava per terra è vero e senza acqua a secco trova neonata di tutti i giorni bene guardino quella bambina lì sa fare proprio di tutto mica per dire perché la mia bambina ma come hanno visto vero era qui che scopava per terra adesso vero ebbene lei fa tutto che ne conti in amministrazione toglie la polvere sempre su tutti i mobili di casa e poi però è una bambina che sa stare anche in salotto sa si si perché guardino lei studia il pianoforte si dipinge molto bene si dipinge che bisogna vedere si e poi studia le lingue sa fa mille cose e poi che strano che strano quella bambina è una bambina che chi la sente lei non sa fare niente non è capace di niente tutta modestia te l'ho detto ho raccontato delle storie credi che ragazze come questa ce ne sono poche sento che è qui lei si si la sento non ci dicano niente di quello che ci ho detto io per piacere sa perché è soggettosa ah si è modessa soggettosa che non ci dicano e si e scusino tanto se mi hanno trovata in quello ma signorina ma vede anzi abbiamo avuto modo di vedere che mentre nei salotti lei ha tanto spirito da tenere vivo una conversazione non le manca però quello che più importa in una signorina ben educata e cioè le virtù per diventare un giorno che le auguro vicino una buona mamma di famiglia non si fa coraggio l'amico hai sentito cosa ti ha detto eh signore signore e non si dice nulla si dice grazie prego signore mi è scappato è stato un lapislingua già già allora se loro mi permettono siccome nel pomeriggio andiamo in villa devo andare un momento di là a dare gli ultimi avvertimenti mi dispiace ma vado di là ma ritorno subito però lascio qui la mia bambina sì 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 lascio qui la mia bambina che farà lei gli onori di casa ritorno subito mia bambina la dà Carlotta sai hanno un accevisto e se capita di far mi raccomando mi raccomando allora se mi permettano io vado e farò prego signora signora Giggia se lei permette le faccio da cavalino lei è un perfetto lei è sempre gentile eh grazie ma mi ritorno signora la tende la tendiamo camodi camodi prego grazie oh no no prego no 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 dopo di me dopo di me no eh ecco ma eh già eh sì ma raramente arrivederci arrivederci vedete vedete quelli suvenuti per casa cosa non mi piace di vedere cosa uno entra due suvenuti ce n'era uno tutte pre 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 non mi piace non mi piace anche per i vicini non è bello non è bello non mi piace non mi piace non mi piace a me non mi piace anche per i vicini da casa uno entra due suvenuti o dove facciamo fare di entrare in un negozio amico non una famiglia civile ora poi vengono a mettere la posta non mi piace io entro bravo bravo dico devi aspettare ancora un poco sai al momento che sa riacchi l'onibus c'è ancora tutto da fare bisogna assicurare le porce assicurare le finestre bisogna guardare che non manca niente va bene ma io anche per i vicini non è bello anche per i vicini cosa che signora c'è l'onibus c'è l'onibus non mi piace due giovanotti ce n'era un e non è bello anche per i vicini non mi piace non mi piace basta se non mi piace non mi piace gigia 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 io entro c'erano sei più venuti ce n'era un che dovrebbe fare tutto staglia a dire ce n'era uno ce n'era due anche per i vicini non è bello guarda Stefano guarda questa qui è una borsa questa va dice prima metterla sulla vettura sulla tettura dove sulla vettura va bene questa la mettiamo sulla vettura io entro c'era due guarda che pesa anche questa deve essere messa sulla tettura anche sulla tettura e lo dice sulla tettura c'erano due giovanotti aspetta dunque guarda qui dentro c'è della roba fragile roba fragile mi raccomando Stefano che non si rompa niente perché ce n'era uno un momento questa qui conviene che tu te la tenga lì me la tengo lì allora anche per i vicini non è bello non mi piace non mi piace guarda questa roba qui insomma tutto quello che devi mi raccomando le finestre ce n'era uno di che person non è per ce n'era uno papalino tiene le mie chate bravo c'era due giovanotti ce n'era uno hai visto quello con pipetto che bello con la pipetta non ho visto di cosa ci si fa tutto ci si fa che c'è che va tutto più a stare non c'è n'andare non c'è n'andare se no c'è il mazzo delle chiavi non ne ho mai messe la sacca non è le ha detto che aveva non è messo le chiavi tu ho messo tu lo ho messo tu l'ho messo tu l'ho messo il mazzo delle chiavi mi ha fatto io come è capilino come è capilino mi ha capilino andiamo andiamo po' le porte le finestre non è le dernière non è non è non è si si a mi mi si si non è A nevo! E qui Cesare. Ciao Cesare, come va, come va Cesare? Molto bene, grazie. Bravo, bravo. Ciao Mettilde. Già in lusso, eh? E beh, toccami un po' la mano. E così, cara zia, le devo fare tanti complimenti da parte del papà. Grazie, cara. Allora Cesarino, già che siete qui in compagnia di vostra sorella, mi vado un momento di là, eh? Perché se non ci sono io sapete bene come vanno le cose. Con permesso, eh Cesarino, con permesso. Tildin, vai a finire di metterti in ordine per poi essere pronta, eh? No, no, no. Con permesso, eh? Prego, prego. Prego, prego. Ma come mai Cesarino hai tardato così tanto? Ma questa sera ritorno a Genova, vero? E beh, naturalmente. A proposito, prima che mi dimentichi, devo darti un biglietto da portare a papà perché mi deve dare... Sì, 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 poi me lo darai, eh? Ah, no, no, perché poi lo dimentico. Anzi, vado a prepararlo subito. Va bene. Eh, bravo signor Cesare, eh? Sarò suo colazione, sarò suo colazione e poi... Sì, ma vedi, è stato papà che... Sì, sì. Ma credi, Mattilde, che non è proprio di peso da me e poi lo sai com'è il papà, no? Oh, quando non ti fai comodo, hai sempre la scusa del papà. No, Mattilde, quello che ho detto lo ripeto. E poi, perché dovrai mancare le mie promesse quando non vedo l'ora e il momento di poterle mantenere? Anzi, senti, senti, volevo farti un'improvvisata ma tant'è non riesco a tacere. Mattilde, mi usa parlo papà, gli ho detto come stanno le cose, lui è contento e ha promesso di parlarne allo zio. Cosa hai fatto? Eh. Hai parlato tuo papà? Eh sì, avantiere. E che cosa gli hai detto? Beh, che ci vogliamo bene, che le nostre intenzioni sono... Oh, oh, mi meschinetta! Io non so, tu fai sempre le cose a tuo modo e poi chi ci va di mezzo sono io. Ma come? Ma sì, per due o tre cose che ti ho detto l'anno scorso qui in campagna. Cose dette magari così per scherzo. Ma come per scherzo? Sì, per scherzo. Ma sa chi fa di testa paga di tasca perché io non ti ho detto niente, eh? Non ti ho detto niente, non ti ho detto niente! Ma cosa c'è? Cosa c'è? Lo so io cosa c'è. Un va e un parlo al papà. Ma chi gliel'ha detto di andare a parlare al papà? Sa quando sa da fare con di scemmi? Alla è sempre così. Ma... Ma Cesare... Pizzolino lasciami fare lì! Pizzolino! 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 Ma ci hanno pensi che sarai affichendo! E va bene ma... E tu sei ancora lì che perdi le braghe! Che braghe! Se tu faccio un pizzolino... Ciao Cesare! Addio Barba! Animo Carlotta! Vai un momento di là! Che siamo tutti qua! Si vado subito! Oh ma... Cosa che barba! Cosa che barba! Mi sembra un poco... Ma che mi sembra, mi sembra è... È nervoso! Si è nervoso! Dorme! Dorme tutto il pomeriggio! Poi si capisce che si sveglia nervoso! Dice... Vedi quando dormo... È l'unico momento che sto un po' tranquillo! Perché quando dormo non ti vedo! Dice... Anzi mi raccomando sempre... Dico... Fatemi sognare quello che volete... Ma non fatemi sognare da mia moglie! Scusa... Oh mi sai poi... Dora inanzi guarda... Vestite non ti vestire... Dormi non dormire... Fai tutto quello che vuoi! Va bene? Io non ti dico più niente! Vorrei morire se parlo! Accontentatela! Accontentatela! Scusa eh! Scusa Cesarino... Scusa se ti facciamo scistere a queste scene... Ma ciò pensa barba! Ce ne fa migliare... Ma tutto serve nella vita... Anche le scene... Familiare... A proposito delle scene familiare... Cesarino vieni... Dunque ieri ho visto tuo papà... Ah si? Mio fratello Michele... E beh? Sai benissimo che tuo papà resta... Mio fratello Michele... Dunque... Dunque... Io ieri ho visto... E mi ha detto... Cesarino ha detto... Eh? Scusate... Ehm... Ehm... Mi fa piacere andare un momento di là? Eh... Sì... Vado subito... Subito... Adesso vado... Ieri ho visto tuo papà... Mio fratello... No 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 no... Non si può... Non si può... Non si può... Sì... Vado a vestire... Sì... Vado a vestire... Mamma ci dico... Che ieri ho... Non si può... Non si può... Ce lo dici un altro momento... Ma adesso non si può... Questa è bella... Questa è proprio bella... Io adesso ci devo dire una cosa... E allora... E allora ti manderò una cartolina... Cosa devo fare... Eh? Alla roba... Che a me... Mi mettete... Che a me... Vada... Vada... Ma finirà... Come finirà... Non lo so... Ma finirà... Ma finirà... Ma aspetti qui... Che ti dico di ieri... Che ho visto il tuo papà... Appunto... Sì va bene... Ce lo dici dopo... Ce lo dici dopo... Ce lo dici dopo... Adesso Cesarina deve andare di là... Roba di mezzo minuto... Roba di mezzo minuto... Roba di mezzo minuto... Come cambia... E meglio che così ti racconto... Sì... Di ieri che ho visto il tuo papà... Mia Stefa... Senti con questa... Andate là... Se spaccate... Ah... Un po' di ogni... Ha già cassino... Cesarina... Ti stai notando... So... Stefano... 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 Dimmi un po'... No... Cosa ci avevi da dire... A Cesarino... E va là... Poi te lo dirò... No... Gigi... Cos'è che? Le mie braghe... Ebbè... Devo saperlo io... Dove hai messo tu le braghe... Eh... Cercale... Mia Stefa... Guarda... Stefano... Che io ho paura... Che fra voi altri vecchi... Combiniate qualche cosa... E io sarò l'ultima a sapere... Ma Gigi... Anzi... Io te ne volevo parlare... Fino a questa mattina... Ah... Ecco... Sei tanto parlare... Per questa benedetta... Passa la bocca... Ah sì... Ah sì... Ah sì... Ah sì... Ah sì... Cosa... Cosse... Se capisce... Se capisce... Sei tanto gentile... Gigi... Dimmi... Gigi... Noine... Cosa... Se dite... São Digne... Oje... Cyber mio... Se davvolta... Cosa... Cosa... Cosa lé si escucho... Cosa... No... Oh... Voi dire... Ah... Ve lwhirassino? Não lo... E più... Là... ma sei già ignorante Eureka Eureka L'hai trovato Finalmente l'hai trovato Cosa c'è? Cosa c'è che ti fai tanto così? Ma dov'era? Dov'era il gilet? Il gilet? Parla, fammi piacere, parla Non toccare in due nel comisino da notte Il gilet? Il gilet nel comisino Il gilet Ma dimmi un po' Ma chi ce l'ha messo? Io ce l'ho levato Date un po' di colonia Siamo, siamo Siamo in villa Dimmi un po' Stefano, dunca Dimmi un po' Dunca fammi un po' Fammi un po' Un nodo? Un nodo? Fammi un po' il nodo perché Non sono buono a fare questi nodi E bravo Stefano Ti sei messo a parlare difficile per l'occasione E ti dici un nodo? Come lo chiamai in mostaciolo? No Mi chiamai in mostaciolo In genese, veramente genovese No, 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 noi abbiamo sempre detto La gassa Fammi la gassa A gassa A gassa Almeno il colletto potevi cambiartelo Lo dico Santo cielo Cosa ci vuole A cambiarsi un colletto? Un altro colletto E' be', e' be', vai a vedere Vai a vedere nel Kumonte Tutti i cassetti di Kumonte Non c'è altro Che un pulsino e una calzetta E basta E' in fondo che è l'ultimo cassetto che è anche in tirabisciolo rotto Poi si parla Dunca Andare Vabbè E poi si parla Si dice Non c'è di cosa Eh, scusa Si parla Cosa fa? E' scivola E che scivola? Ti mi strangui, vorresti restare vedova? Magara E' me Magara E poi E poi Non la toccare No, no, io non la tocco E poi ti senti Che ti metti a venire a due Oh, due Oh, due 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 E' Stefano Stefano Dunca Dunca Me lo dici cosa ti ha detto tuo fratello Michele? Dunque ieri, ieri ho visto mio fratello Michele Me l'hai detto E ti ha detto Che è Cesare E ma lo so Lo so Lo so Lo so Dove vai? Eh, vado a vestirmi Lo so, lo so Eh? Lo so Allora non lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so E se lo so Ma voglio capire cosa hai avuto tu Voglio sentire da te Perché mi Io non lo so Ma finirà Ciò che finirà Come finirà Non lo so Ma finirà Dunca ieri ho visto mio fratello Michele E mi ha detto E ti ha detto Ti ha detto Ti ha detto Ci siamo Dove? Dove siamo? Ci siamo Manca un po' meno Eh? Solito E poveretto Ti manca un po' di cervello Eccolo chi Il pomello Sì Eh? Ambellata Così un pomello Ma Cosa 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 E ho perso In sua cassetta Le chi Un pomello Un giorno L'altro Me la tocca Sì Me la tocca Un giorno L'altro Me la tocca E ma E Gigia E cosa me ne faccio Di questo bottone Cosa Me ne facciamo Allora Facciamo così Facciamo così Gigia Gigia Ci vuole Gassetta e pomello Gassetta e pomello Di contro in faccia Gassetta e pomello Gassetta e pomello Non la gassetta Lì al pomello Ma tu dai Ma dai i numeri Che numeri Ci vuole così poco Guarda Mi ho capito Niente 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 Guarda un po' Se ti manca il pomello Niente Ci vuole Gassetta e pomello Gassetta e pomello Gassetta e pomello Ecco Bella figura Eccola E ti manca un po' Di cervello Ho capito È tutta questione Di in principio Dunque ieri Dunque ieri Ho visto mio fratello Michele Ve l'hai detto E mi ha detto Che a Cesarino Piace la Michele Oh Hai visto che lo sapevo Che si vogliono bene Ecco Proprio ieri E vabbè E dimmi un po' Dico se Cos'è ti che ha risposto Dunque ieri Dunque ieri Ha visto Mi ha fatto No 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 Voglio sapere Cosa ha avuto Hai avuto Il muso Di rispondere Il muso La faccia Il muso La faccia Semmai ho risposto Che Che Ho risposto Che anzi Anzi A ti ti che ha risposto Che anzi Ma anzi Cosa Cosa Anzi Io ho detto Ma scusa Ma dice Ma cosa vorresti incontrare Cesarino è un bravo giovanotto Si vogliono bene Quei due ragazzi Si è che te lo dice Che si vogliono bene Si vede Si vede Si vogliono bene Ma se la metti da Cesarino Non ci ha mai pensato Ma poi si Cesarino è un bravissimo giovanotto Non dico mica di no Ma non bastano È vero Ma pare che sia tutto Una volta che si vogliono bene Bene Allora stiamo a sentire Allora dico Quando tu Avrai sposato Tua figlia A questa cima Di galantuomo E che ti E che loro anzi Non abbiamo niente per a casa È vero È te e ti che ti sarei obbligata a pensare Eh ma a poco 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 Ti a queste cose Ti non che pensi Tu vai sempre Con la testa nel pallone Britto scemo Non scemo A poco a poco Poverini Mentre io so Che c'è chi la sposerebbe Mentre io so Ma ti sicuro Che c'è un giovanotto Caro mio Guarda Bravo Ricco Educato Signore E mezzo nobile Che la sposerebbe Ti capisci? Mezzo nobile Mezzo nobile Mezzo nobile L'altro mezzo Non si sta a comodire Così chinto L'altro mezzo Non fa di spirito Mentre io so Che la metilde È già innamorata Adesso dico Se io per caso Per combinazione Non ti domando Cosa avevi da dire a Cesarino Ma lei la cosa era bella e fatta Ti ti rompivi il collo A tua figlia E un partito di quelli Che fanno la fortuna Della famiglia Ci scappava per sempre Ma non fa una cosa Gigia No, no, non si può Io sono il padre No No, no, no Come no Gigia Non si può Gigia questa non me l'avevi mai detto Gigia Cosa? Io non sono il padre Della famiglia Ma cosa ti dici? Ma figoti se tu non sei il padre E allora Dico che sono il padre E tu dici no Ma no Che non capisci niente Parlavo da sola Sono sceme che parla da sola Insomma io come padre Non devo saperne Non ti avevo ancora detto niente Perché ero sicura Che avresti fatto delle confusioni Tu a solito Eccola E poi Anche perché volevo farti vedere Che ti dici Che sei solo capace di criticare Tu Tu che dici che con l'educazione Che io do a mia figlia Lontano i buoni partiti Eh? E' bene? E' bene? E' bene? Ti faccio vedere che ne trovo dei meglio dei tuoi Sarò Non dico da no Ma dimmi un po' Anche per capirci Non so Anche non si sa mai Dico Si può sapere chi un è? Sicuro Questo sì Ma questo bel giovenuto Questo mezzo nobile Mezzo ignobile Si può sapere Aspetta Aspetta un po' eh Aspetta un po' Eh? Il signor Riccardo Eh? Aspetta un po' Sei scema Sei scema Te lo giuro Ti do la mia parola d'onora Ti porto dei testimoni Che sei scema Ma andiamo a finiscerlo Ciò ricordo Ma sti galassi Ciò ricordo Se ti dicessi Che l'ha già confidato A un suo amico Un suo amico? Eh ma se parlo Se ti dicessi Che ha già scritto al padre Ha già scritto al padre Eh? Sarà Questo senatore Che permette che suo figlio Sposi chi? La figlia Di un sensale Da droghe Ma andiamo E ma Stefano non sposa mica La figlia Di un uomo qualunque E questo senatore Per questo signore Senatore Ha già risposto alla lettera? Fino adesso Fare di no Momento Momento Ragioniamo Stefano Lui Capisci Il senatore È a Roma Naturalmente Vorrà prima Domandare Informazioni Della famiglia Perché lui Non ci conosce Come ai 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 Informazioni Della famiglia E come ai 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 Dunque Dopo le informazioni Vorrà sapere Cosa diamo Di dote Alla ragazza E come ai 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 E ma scusa E cosa vuoi Dare di dote Due tre mille lire E con tutti i denari Che guadagni E con tutti quelli Che spendi Andiamo a fare Io spendo per la famiglia Io li guadagniamo a fare Fa niente Fa niente Ad ogni modo Ricordatelo Stefano Si dice che è figlia ereditiera E figlia ereditiera E ereditiera E ereditiera E ereditiera di che cosa Mi l'uso Si dice E ereditiera di pignetta De casserone De casserone Si dice Ma non è bello Sono cose che le fanno Vieni di là Già pieno di gente No La ragazza Ah si Fai presto Non mi Ti raccomando Fai l'onor di casa Allora Stefano Adesso che lo sai Mi raccomando Mi raccomando Cesarino Non ci stare neanche a pensare Perché oramai Andiamo No 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 Figlio 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 Il mio fratello Michele Guarda Io ho un sesto senso Io ho un sesto senso Io sento Ma sento proprio Sento che noi siamo gente Destinata A andare su Andare? Andare su Capisci? Noi si va su Si va su Poi se c'è Poi se viene giù Si va su Capisci? Su Si 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 va su Siamo destinati a salire Andremo a finire Alla Madonna della Guardia Ci damamentami Perché mi so quello che dici Allora In quanto Cesarino Niente 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 E niente E vabbè guarda Stefano Allora anche se tu dicessi di sì Ricordati che io No Cesarino Ti dirò sempre di no No Cesarino No Cesarino Cesarino Pensiamoci Cesarino Cesarino Adesso Con mio fratello Medele Ci avevo già dato Mese Uuuuh Questa Cale Anche Cesarino Poverino Voleva già Uuuuh E questo qui Se questo avesse delle buone intenzioni Che partito Senatore Mia figlia Sono mia socia Mia moglie La foglia La figlia del senatore Eccomi qua Ecco tu qua E' bravo E' bravo Cesarino Venuto un po' con campagna Alla domenica Alla domenica Te ne vieni un po' con campagna E' bravo E' bravo Cesarino Che alla domenica Se ne viene un po' con campagna Dunque zio Ieri ha visto il papà Si ho visto Ieri ho visto il tuo papà Come sta? Bene Sta bene Ho visto Sta bene Si Ah E se ne è venuto un po' con campagna Cesarino Bravo Ehm Se sentiamo Ci sentiamo un momento Si Che bella Che bella Oh ma che belle braga Che belle braga Che bella tinta di braga Che bella Ma se dall'anno passato che ce l'ho Dall'anno passato che ce l'hai con le braga lì Si Ma davvero E' bravo E' bravo Cesarino Ah ah E' venuto un campagna con le braga dell'anno passato E' bravo Che sa Cesarino Barba Eh Ma non ha detto che doveva dire qualche cosa E devo E devo bene dirti qualche cosa Mi è massata Da fottaglio Dirti qualche cosa Ma perché c'è qualcosa che non vale No 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 Ma vedi nella vita Guarda infatti Nella vita Quando uno deve dire una cosa Ce l'ho messo Quando uno deve dire una cosa E' inutile sale A dire A rendire A dire Tanto poi bisogna che la dica Tanto poi bisogna che uno la dica La cosa Quindi è inutile stare le acce Viene a dirla Viene a dirla Almeno quando uno ha detto quello che doveva dire Dopo non c'è più niente da dire Non c'è più niente da dire Ciao Ma no Ma non mi ha ancora detto niente E non Senti Cos'è Ecco Poi dicono che Vedi Dicono che uno è capo di casa Ma che capo di casa Un strato Qualunque Barba Mi non capisco E lì figuri Senti Senti Cosa vuoi che ti dica Geserino Fate coraggio Perché è successo qualcosa Barba No No non è successo niente Ma fate coraggio E' sempre bene nella vita E' sempre bene forse coraggio Guarda che è sempre bene forse coraggio Almeno se succede qualche cosa Poi uno dice Beh io mi son fatto coraggio Ti capisco Ti capisco Ti non capisco Orbi Ecco Senti io te la dico Proprio come le Dunque Dunque in una famiglia Delle volte succedono Quale cosa In una famiglia C'è la madre Il padre La figlia Ci sono Anche io che sono Il padre Di questa famiglia In questa famiglia Arriva uno Come se fossi Detti Arriva uno E allora Questa famiglia Ci sono Anch'io Dice Eh perché no Bravo giovinotto Andrebbe giusto bene Dice così Poi Nella stessa famiglia Io lì non c'entro più Non c'entro più E da Da capo di casa Se non diventa un strassun qualunque E non se ne parla più In questa famiglia Capita un altro Capita un altro Allora la famiglia Che io non c'entro più Comincia a dire Eh Forse è meglio Meso nobile Forse è meglio Hai capito che roba Hai capito Non hai capito Non hai capito niente No Vado a mettermi una giacca Vado a mettermi una giacca Vado a mettermi una giacca Perché c'è un po' di corrente Capita qualcuno Ma vedono senza giacca Dicono ma con l'uomo Lì non c'è No giacca Invece giacche c'è notante Ci mancheranno magari i pumeri Ma le giacche c'è Ma le giacche c'è Ma aspetti qui E poi ti dico Dico la faccina Ma guarda È qua Vedrai Non ha cosa da niente Ma Signora Ziggia carissima Come va Come va Sta bene Oh signor Riccardo Ben trovato qui Eh capisco Capisco Ho visto di là Certe persone Ho ricevuto una lettera Da papà Sì Era un po' che aspettavo E stava anche un po' in pena Riceverà senza Sì Grazie Grazie E allora se permettono Vado a fare un ballo anch'io Sì Vado a divertirsi Grazie E Leo va qua Ziggia senti Quel signor Venosio Anzi lui mi dava una Una certa Una certa notizia Ma veramente la cosa È ancora un stato d'embrione E per adesso Non c'è niente di sicuro Vero Va bene ma Di che cosa Si tratta Pare Si tratta Di un matrimonio Ho detto questo Sì Ho detto Allora sono stato uno scemo A lasciarmi scappare La prima parola Sono cose delicate Non è mica troppo bello Signor Venansio Stia tranquillo Con noi Non può mancare di sicuro Ce lo garantisco io Sì ma Non può mancare E diceva Scusi Signor Venansio Venansio Scusi Lei diceva anzi Che questo matrimonio Ci riguarderebbe da vicino Ho detto così L'ha detto a me Proprio così Sì vicino Da vicino Che se cosa Mi scappare queste parole E meno sono indiscrezioni Ma di che cosa Paura Ma non è questione di paura Signora Ma noi Non l'andremo certamente A spantegare Ci capisci S'accomodi Signor Venansio S'accomodi S'accomodi Sì grazie Che sono stato incaricato Da parte Da parte del papà Del giovanotto Lei è stato incaricato Da parte del papà A fornirgli Certe informazioni Capito A sapere che di Se mi posso Attraverso Diciamo Ho capito Basta 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 Stavo dicendo tutto Capito Allora è inutile Basta Già che ha cominciato No 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 Una paroletta Una paroletta Sì Così Ma Stefano Ma basta Ecco basta Cosa vuoi Ha già detto fin troppo Sì ecco fin troppo Parole Ha già detto fin troppo Ci ha già una presetta Sì Ecco brava brava Signor Stefano Una presetta Stefano prendilo Accetta Lo sai che è Un'altra scantacuola Mi fa male Guarda Stefano Un'altra scantacuola No 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 Ti scarica Ti scarica il cervello Ecco Ti scarica il cervello Accetta Scarica il cervello Sì Un'altra grande Scarica il cervello Lei tabacca tanto Sì 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 Due o tre al giorno Me l'hai fatto fuori Sì 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 Su guarda Tanto Buono vero Anzi Signora Gigia Se mai L'urusha sentissam Sì Guardi Il giovanotto Oramai è gotto E la ragazza La ragazza è lì Diciamo a mezza cottura Ma vede Non vorrei Che dessero nell'occhio Sa L'amore non si può nascondere Vero? Ecco E non vorrei che dessero Nell'occhio Ecco ecco La gioventù è come i bricchetti Mi prende fuoco Quindi bisogna stare un po' attenti E controllare un po' le cose Ma mi stia bene a sentire Signor Venanzi Sì 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 Quando si sa Come le cose vanno a finire Sì 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 Dico Signor Venanzi È questione di giorni E niente di più No Insomma signora sa Non si può sapere Signor Venanzio Ma Prende qualche cosa No Oh Ma steve Ma cosa fai Abbia pazienza Signor Venanzio Signor Venanzio Ma dite che è là Ma Stefano Come si può venire davanti Non è abituato Gira qui di là Gira qui di là Non è abituato Non è abituato Che scemo Vanni Vanni vai allontanati Abbia pazienza Vai un po' più in là Abbia pazienza Signor Venanzio Signor Venanzio caro Dunque Prendi qualche No fuori pasto Fuori pasto Signor Venanzio Grazie Guardi Guardi caro Lasci fare da me Io vado di là E ci mando di qua La colomba Con un bicchiere di limonata No Non è un bicchiere di limonata Non è un bicchiere di limonata Non venga da là con me Un dittino di grignolino Perché non è un dittino di che Ci sta senz'altro Ci sta signora Andiamo a prendere Un dittino di grignolino Grazie Con permesso Ma chi Chissà di chi avrà inteso parlare E mi ha detto Non capisci mai niente Signora Signore vi lodo E vi ringrazio La cosa E' combinata E' combinata Questo ballo E' per me Allora Gigia Oh ti piace Gigia 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 Senti non mi piacciono Queste cose non mi piacciono Ti lasci me la C'è uno C'è uno Canta Canta Non ti piace Non ti piace Non ti piace A te piace A me Basta Ma non è bello Gigia Non è bello Dunque stai a sentire Stai a sentire Dunque Dunque stai a sentire Là c'è il signor Riccardo C'è il signor Riccardo Lo chiami qui E poi fai tre o quattro chiacchiere Chiacchiere? Io lo sai che non sono bomba A dire niente Che chiacchiere Cosa che è di lui? Non sei discorso È possibile Non ti sa Cosa dice A bel tempo A brutto tempo E lo vedi anche lui Se c'è bello E lo chiami qui E lo inviti a pranzo Qui da noi altri Per domani A pranzo? A pranzo? A mangiare? A tavola? Con noi? Non contesta No 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 Mi sta volendo pensare A quello che devo dire Non so mai Cosa dire Mi fai mal di stessa Mi fai Ma non è così L'uomo piace Andiamo a fare Delle brutte figure Perché? Gigi abbiamo sei bicchieri Ce ne sarà di sette Qualc'è? Siamo in campagna Siamo in campagna Gigi facciamo una cosa Mi che regalo Un cinquanta lire Che vado a mangiare Dove vuole? Ma a me no Non capisci niente Ma non è? Guarda Tanti discorsi Lo chiami qui Fai tre o quattro chiacchiere E poi intanto Lo inviti a pranzo Qui da noi altri Per domani Gigi facciamo per dopodomani No no Domani Facciamo dopodomani Così penso un po' Cosa dire Domani Domani Va bene domani Domani Allora intanto Mi vado della Sopra Gigi Gigi Tanto per sapermi regolare Cantimi anche te Ti canti Se sa mai Se sa mai Ebbene Cosa Ebbene sì Canto anch'io Ebbene Ebbene Domani io mi compro una chitarra Io canto E io suono E se sapessi Di farti venire Il nervoso Canterei Dalla mattina Alla sera Vorrei essere Un uccello Per insurditetti E io vorrei essere Un fucile Alla stessa Signor Riccardo Signor Riccardo Mi dica signora Mi scusi tanto Sa Se lo disturbo Ma è mio marito E lui Che vuol dirle Non so Dirle qualche cosa Non ne posso Abbia pazienza Stefano È qui Sì 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 Allora Stefano Eccomi a lei Dica pure Mi ha chiamato lei No Dica se vuole dire Bravo signor Riccardo Venuto un po' Con campagna Grazie E bravo signor Riccardo Venuto in campagna Con le braghe Dell'anno passato Che burlone Che burlone Ma che burlone Ma che burlone Vedi io quando ero io quando la prima volta che ho dato tanto per fare quelle quattro cacca Tanto per poi vero La prima volta che io l'ho visto io prima non l'avevo mica ancora visto Logico Ebbene quando l'ho visto ho detto Porro bacco Quale il giovanotto Quello giovanotto lì è proprio il giovanotto Come il fuoco Lei è troppo buono signor Stefano Se ne ha accorto anche lei No signor Stefano Tendo troppo gentile Ah no ma è messo un senese Cosa vuole il genovese Il genovese parla poco risurrato Il genovese parla poco risurrato Risurrato Il genovese parla poco Non si capisce vero Ma non lo capisco nemmeno Ma per dire Ma no No per dire che il genovese è un uomo Che pelo sulla lingua non ce n'ha Il genovese è un uomo Che quando deve dire una cosa Magari ne dice un'altra Che burlone Che burlone Dica un po' Il suo genitore Quello che ha sposato sua mamma Ma con il suo genitore Mio padre Ecco suo padre Anche io dicevo mio padre Che era una padre Sì 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 io vorrei dire così E bravo signor Ricardo Come non tengo a me Dica un po' Suo padre Suo padre Quando l'ho visto Ha notizia di suo padre? No 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 Manco Manco meno no Non nemmeno io ne ho notizia Ma io non scrivo come vuole pare È sempre là Uh uh È sempre là E dica un po' Suo papà È sempre È sempre là? Ah là Sì 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 È là È sempre là? Sì A cosa? È sempre là giù a A Roma A Roma A Roma A Roma A Roma Che l'avessi detto Quando era ragazzo Ma Che l'avessi detto Suo papà Si vede quel bel uomo Tutto Cosa Tutto Mio papà è Al ministero Al ministero La camera La camera La camera La mia è quella là Ma no Sì Suo papà ce l'avrà Che lui la camera No Non dormirà mica Sul piano Che burlano Ma che burlano Ma che burlano Quando io L'avessi Quando l'ho visto Quelle sue Papà lì Che era Che si vede Quel tipo Così cresciuto Bene Così alto Così Che bella Stato Che bella Stato Ora È alto Guardi Alto Alto Non si può Nemmeno dire No Non sta Nemmeno bene Perché No Adesso Forse Io confuso Perché veramente Ne dico la verità Io sono sincero L'ho visto seduto Allora Capisco L'ho visto seduto Però ho detto Se quello lì si alza Ti sa come Invece no Invece no Ragione lei L'ho visto Poi alzata Non è alto Non l'ho più visto alto Non l'ho più visto alto L'ho visto Quelle mese cose Non era alto L'ho visto alto L'ho visto Alticcio Una cosa Ma è impossibile Possibile È impossibile Perché mio padre Astemio Quindi Ah è Astemio Vabbè Credevo che fosse genovese Dica un poco Dica un poco Domani Domani Lei è Libero Dunque Domani Domani Sì Libero Domani libero Libero Sì È libero Sì sì Liberissimo Perché Dopodomani sarebbe stato libero No No Assolutamente Un impegno Io l'avevo detto Ma la Gigi ha detto Per domani Che venisse da noi A fare penitenza Penitenza Per modo di dire Sa in casa nostra A fare Mangiare La Gigi Cioè Ma Dio Che venisseva in casa nostra A mangiare qualche cosa Con noi Così Sa Ma la buona Sa La buona Sa Proprio alla San Fanzon Ecco Alla San Fanzon Come dicono Spagna Sa Una cosa Sì Proprio alla buona La casaliera Ecco Proprio Mi dispiace Che loro Si disturbino Vero Ma io Accetto Senz'altro Accetta Sì sì Senz'altro Senz'altro Se ci vuol pensare Ancora qualche giorno No Vede Sio Stefano Sio Sarebbe Sarebbe Scortesia Da parte mia Sono così gentili No Sì E vabbè Tanti Allora Tanti ringraziamenti Tanti ringraziamenti Da parte di Tutta la famiglia E 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 Che burlone Che burlone Che burlone Che burlone Che burlone Oh secchio E E Di nuovo Tanti ringraziamenti Cioè Stefano Sono io Che devo ringraziare Lo so Noi invitiamo Lei ringrazia Logico E Se permette Allora Cioè Mia nessa Mia figlia È di là Mia figlia È di là Questa è mia nessa Mia nessa Resterebbe Resterebbe la figlia Di mio fratello Michele Oh capito La nipote La nipote Nipote Sì Voi altri in Bassa Italia Dite nipote Sì Che invece poi È la nessa Che è la stessa cosa È la nessa È mia figlia È di là Di nuovo Tanti ringraziamenti Da parte Di tutta la famiglia E domani Quando viene Per mangiare Da noi Non si disturbi Non capisco Sturbo Io non Non si disturbi Non è il caso Che lei si disturbi No Di solito Quando uno è invitato Magari Porta qualche cosa Non è il caso Non si disturbi Come vuole Come vuole Di nuovo Non mi vuole Di nuovo Ti dico Se ho sentito Ho sentito io Ho sentito io Chi ha redetto Chi ha redetto C'era il signor Pippo Il signor Pippo Che parlava E io diceva Io diceva Che il signor Riccardo A nostra figlia Non ci ha mai pensato E noi altri Immaginiamo Quello che non è Ho preso Uno spavento Quando ho sentito Una cosa così Perché ero lì Che giocavo A carte Con degli amici Giocavo a goffo Di sentire Dire una cosa così Però sullo spavento Ho detto Gioco Invece dovevo dire passo Dovevo dire passo Ho perso Due 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 Niente Ma Tu hai detto Che sentivi E giocavi Giocavo Non hai capito niente Chi Non hai capito niente Non hai capito niente Come lei non capisce Fa me piacere Basta bravo Non mi confondi Ma se dico Già vendrai All'ina pulenta Fatta male All'ina pulenta Tutta morti Tutta morti Fatta male Scusa In conclusione Fino adesso Il signor Riccardo Non si è spiegato Cosa? Il signor Riccardo Venanzio Soltanto meno In conclusione Perché Cosa regola Cosa Come sarebbe a dire Il signor Venanzio Non si è spiegato Cosa? Il signor Venanzio Non si è spiegato Ma ha detto Che si trattava Di un matrimonio Nella nostra famiglia Sfido io A spiegarsi meglio No Gigi Non l'ha detto Nella nostra famiglia Ha No Non l'ha detto Ha detto Nella nostra Ma senti Era lì Era lì 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 Sì Era lì Ma non l'ha detto Ha detto Lo dico io Ha detto Che si trattava Di un matrimonio Che ci riguarderebbe Da vicino E' lo stesso Ecco le parole Da vicino E' lo stesso E' lo stesso Tu non capisci Scusa Più vicino Di tua figlia Chi c'è? Lo stagnino Ma va 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 Ma No Ma Una cosa Ma è vicino E' una cosa E' nella famiglia E' lo stesso Non è lo stesso Da vicino A nella Vicino Vicino Vuol dire vicino Nella Vuol dire dentro Nella Di vicino A nella Cosa dire Che differenza Di che tratti E' vicino E' nella Ecco E' vicino E' nella Non è Un momento C'è una fuori Un oggetto qui E' un oggetto qui Una mela Una mela Va bene E' vicina Sì Se la mela E' qui E' dentro Nella Nella E' dentro Vicino E' nella C'è una bella differenza Ma no Ma facciamo che non puoi capire Se uno Ecco Cigia Se uno ti dice Io sto di casa Vicino alle carceri L'altro ti dice Io ci sto dentro Oh Ma no Ma no Ma ti ti facci Vai a cercare Poi sentime un'altra cosa Dico Parliamo un po' più seriamente Vuoi che il signor Riccardo Venga a domandare La mano di tua figlia Senza prima sentire Il parere del babbo Eh Non 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 è possibile E non Non è possibile 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 Perché il signor Venanzio Deve scrivere al padre Il padre Naturalmente Risponde al figlio E poi Vedrai Se hai ragione Tu O se ho ragione Vabbè Io ti dico Ma farò piacere Ti dico una cosa Io sento perare Una spesa De scopole Ma capisco Certo Vabbè E che sia figlio Gigia Figlio di mio fratello Mi chiede E tua figlia L'hai trovata per la strada Tua figlia E allora Gigia Figlio di mio fratello Mi chiede Cos'è Signora Vedala Un su Cesare E un su Pippo Benissimo Cosa Di là E chiamate Mia figlia La Metilde E le dite Che vada Tenere compagnia Signor Pippo Poi mi mandate Di qua subito Mio nipote Cesarino Capito E gli dite Cesarino Che c'è il suo zio Suo barba Suo zio Che gli deve parlare I mantinenti I mantinenti I mantinenti Colomba Colomba Andate di là Cercate di Cesare E ci dite Che domani mattina Quando lui Vede il postino Il portalettere Ci dica C'è niente per me Io ci scrivo No Chi ti deve fare Ci scrivo No No Ci parli Cosa che scrivo Ma mi Mi è stata Un scioppum De puta Che non lo so Quello che parli Ci scrivo Ma dimmi un po' Ma il padrone Di casa Chi è Come chi è Lo sei tu il padrone E no Come no E no E no E no No Sì Perché ti Ti è soltanto capace Di fare al momento opportuno Boh 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 Poi Non sei neanche capace Di abbottonarti i pantaloni Eh che manchi ai pumeli Per forza Vergogna Vergogna Dica a finire la cosa Guarda a finire Guarda Se io Fosse al tuo posto Eh Bene Avrai vergogna Di mia moglie Quello mi succede Cosa mi succede Oh vergogna E altro La vergogna C'è te lo dite Taggi 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 E qui qui E qui Cesarino Cosa che Oh Cesarino Siete voi Bravo Cumbama Dito che Sì Sì Accomodatevi Cesarino Perché c'è vostro zio Che vi deve parlare Guarda di parlare E di non far credere Che sono io E che scrive No E si che parli Avanti Fallo Fallo sedere Siedi Cesarino Fallo sedere Sei già saluto Adesso siediti anche tu E parla E te lo dico io Ti dico io Tutto quello che ti devi dire Allora ripeti Dunque Dunque Mi pare Se non mi sbaglio Mi pare Se non mi sbaglio Che tuo papà Che tuo papà Mi abbia detto Mi abbia detto Ma che stupido Ma che stupido Ma no Che ti dici Che stupido Che voi Avreste qualche idea E' vero Cesarino Sulla nostra Metilde E' vero Qualche idea Diremo Sulla nostra Metilde Zio Se non le rincresce Lascia parlare la zia Vedo che lei ne esce meglio Oh Sanzione Perché Non è mica tuo marito Quello lì Mi raccomando Bisogna bene Eh Bisogna bene Che parli io Per forza Se tu non sei capace Non è capace Io non capisco Non capisco Perché in questa casa Chi fa tutto E' lui In questa casa Non si muove foglia Senza che lo sappia lui Foglia Foglia Se attaccata con la foglia C'è tanta rametta così Ci vuole già un altro permesso E vuole già un altro Dunque Ecco qui Cesarino Dunque la cosa è così Dunque tanto mi vero Quanto mio marito Siamo tanto contenti Che voi Abbiate preferito Vostra cugina Per formarvi Una compagna Della vostra vita Anzi Ma Ma D'altra parte Tanto mi Quanto mio marito Ci rincresce Tanto Tanto Di dovervi dire Di no Non è Cesarino Che voi Non siate Un bravo Giovanotto Anzi 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 E che voi Non formereste La felicità Della nostra figliuola Della nostra figliuola Anzi 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 Ma È figlia sola Vero? Eh? È figlia sola È sola Poi quando si sposa Non è più sola Ma no Capisci È figlia unica Ma sì È figlia unica Unica Per ora Poi vedremo Dunque È figlia sola E Ha 500 Mila lire Di dotte Cos'ha? Cos'ha? 500 Mila lire Di dotte Ah sì? Eh Come si? Chi ce le dà? Come si ce le dà? Tu ce le dà? Io? E a me che me le dà? Poi Un giorno o l'altro Le resterà tutto quel poco che abbiamo Sì Sono brucia Dunque E Tanto mi Quanto mio marito Per dirvi la verità Abbiamo Pensato di Collocarla Diversamente Sì 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 capisco Io non sono uomo degno Vero? No La famiglia aspira No no Dica squattata No no Non spira No è vero Dica qualche cosa Immagino che Non mi avevi bandito Tutto questo No no Se non ci fosse già pronto Un altro No 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 Come no? No 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 Ma come no? Ma come no? Ma come no? Ma come no? Ma c'è? Ma ci farebbero Ma ci farebbero Questi discorsi C'è? 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 E anzi Cesarin proprio Vi preghiescimo Fintanto che il matrimonio Non sia compiuto È proprio questione Di giorni Sapete? Niente di più Vi preghiescimo Di rallentare Le vostre visite Abbiate pazienza Ma cosa vuole? La gente Ciarla Non è vero E se queste ciarle Andassero nelle orecchie Allo sposo Potrebbe anche Succedere qualche cosa Sì sì sta bene ho capito Ho capito Sì D'altronde vi dirò Che se sono su Trovo venuto esclusivamente Per prendere mia sorella Carlotta E portarmela via Ah sì sì Perché a Carlotta Non è vero Cosa l'ha che È da ieri Che piange Quella bambina lì Meschinetta È un po' nel mio caso No? Cioè? A me Mi se nega Quella che avrebbe dovuto Farmi felice E a lei Se che le è vattito E so speranze Bisogna compatirla no? Ah Perché Perché lei si credeva Così Dica no? Si vede dalla bocca Che ride Si vede che ride Se non accorge che ride E mi lasciami ridere E scusa Non posso farne a meno Viate pazienza Si dico io Avevo sempre creduto La Carlotta Un carattere romantico Sentimentale Ma Ma scema Lala prego No no ma perché dico Non ha neanche un soldo di dote Sta ragazza qui E se mai È cosa da ridere Vero A meno che penso E mia sorella Spero che dimenticherà E possa trovare presto Anche lei Un buon partito Anche Se non ha le 500 Mila lire di dote Da sbattere Sulla faccia Agli scemi Comodi Comodi E come ce l'ha detta bene E come ce l'ha detta bene Si dò ragione Si dò ragione Si dò ragione Vabbè in ogni modo Ricordati Che quel ragazzo lì Non deve stare in casa mia Neanche un minuto di più Eh già già Vero detto Un maleducato Di un insolente Di un morto dalla fame Capisci 500 mila lire Da sbattere Sulla faccia Agli scemi Come se mia figlia Non li avesse Non li ha Ricordati Mettitelo bene In tasca Non li ha Oh va bene Eh no Perché un giorno o l'altro Magari mi vieni fuori E mi dirai Oh oh E con le 500 calorie No 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 Non li ha Oh mamma mia Non l'avrei mai più pensato Cosa è che Cosa è successo adesso Il signor Pippo Mi ha detto che Cosa ti ha detto Oh mamma Oh signora Ma parla Dini Cosa ti ha detto Il signor Pippo Il signor Pippo Mi ha detto Che il signor Riccardo A me non l'ha mai pensato Ci siamo Gigia Gigia Ci siamo Gigia Ma dove siamo Ma dove Ligia Non capite proprio niente Ma cosa vuoi Che sappia Il signor Pippo Il signor Pippo Ma il signor Pippo È un ciarlone Ma fammi il piacere Che chissà tutto Il signor Venanza Oh signor Venanza Oh signor Venanza Caro Signor Venanza Signor Venanza Capita proprio a proposito Signor Venanza Guardi Qui c'è mia figlia Che piange Che si dispena Lì c'è mio marito Che grida Sbota Solleva Ci fa diventare matti Matti Ho già fatto Tre salti mortali Ma adesso mi riposo Signor Venanza Signor Venanza Lei deve dire Come stanno le cose Lei deve elevare Questi due esseri Da tribolari Signora Gigi Farli chiaro Già si spiega Perché a me non succede Cosa da dire Né cosa da fare Cosa c'è Mi dica proprio la verità Signor Venanza Sì 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 Perbacco Questo benedetto matrimonio Si Si fa O non si fa Ho capito Si fa Perbacco Si fa Momento Momento Si fa Un matrimonio Si Va bene Adesso sentiamo Chi sono i matrimoniati Ma non lo sanno Non lo sappiamo Non lo sappiamo Non lo sappiamo Signor Venanza Questo matrimonio È con la Carlotta Eh sì Con la signorina Carlotta La figlia Ma cosa si credeva Ma per parte Ma tanto Dio Cos'è se credeva Cos'è se credeva Mi ha chiesto È la figlia del signor Michele Sì 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 Cos'è se credeva Ma cos'è se credeva E lei ha il coraggio Il coraggio di dire Cos'è se credeva Eh sì Eh sì Eh sì Il coraggio Lei Il coraggio Dopo Ma signor Venanza Eh Dopo Dopo che lei ci ha fatto credere Quello che non è Lei dice cose se credeva Mi ho fatto credere Signor Venanza Lei Signor Venanza Lei ci ha fatto credere Quello che non è Per che cosa Lei è venuta a dire Che si trattava Di un matrimonio Nella nostra famiglia Ma mi? Ho detto che si trattava Nella nostra famiglia Signor Venanza Ma parliamoci chiaro Ma scusi Ma cosa ce ne facevamo noi Ma naturale Ma cosa ce ne facevamo noi Che fosse più questa Che quella Se quella non era mia figlia Sarciccia Sarciccia Sentami che domando scusa Ma signor Venanza Guardi Ma non mi deve Domandare scusa adesso Ma ma perché Ma perché lei ci ha compromesso Mi ho compromesso Ma guardi che Non ho compromesso Ma volatamente Ma Venanza Lei 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 doveva parlare chiaro Chiara Lei non ha parlato chiaro Ma signor Venanza Ma cosa dice Niente ha fatto lei Signor Venanza O è uno scemo O è un intrigante O è un poco di buono Oh signora Ci ce la prego La prego di moderare i termini E guardare come parlo Io parlo Se no che l'insegno a me Come sa da trattare Con i galantuomini Che l'insegno a me L'educazione Lei è tutta chiara No 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 Dove siamo Ma un momento Lasciatemi a parlare Perché qui non ci siamo più Caro signor Venanza Chi ha detto Tutto il resto va bene Ma in quanto è l'educazione Quello lì Non la dovevo Non la dovevo Ma non è che è una persona così Che viene a insegnare Lei che insegna l'educazione È capace di insegnare l'educazione E come? E come? E se allora Lei è capace Vedo un po' Che io saranno più di vent'anni Che cerco di insegnarcela L'educazione Ma per cosa mi... No 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 Ha detto delle cose Un salotto No no Faccio per dire Che qui c'è tutta una famiglia Qui c'è la madre Lì c'è il padre Lì c'è la figlia E papà E lei deve rispettare Ma cosa mi rispetto Chi mi rispetta E che Dio anche Che con tutte le loro Limunate C'è manzà limunò abbastanza E sì E c'è ancora qualche cosa Da dire Dio che lei Ma lei è un marito di tessa Lei è un marito di legno Bene proprio E lei signora Ma sarà magari vestita Dal signore Ma è una lavandaia Una lavandaia Una frutinendola al mercato Una big guy I figiardi I uomini E non capisce di te E le donne Non capisce di te E donne sono Tutte senza cervello Ma non so Imbrogi a mannesa E poi Non è vero Adesso io me ne lavo le mani Fate quello che volete Io me ne lavo le mani E quello bello cosettino Che se ne è andato Cinque bicchiere di grignolino Non dico uno Non dico uno Non capisce di me E io scemo No e pretendo che mi sia Vesce davanti a tutti Ma no signor Riccardo È una donna Ma meglio Meglio Le leveremo il vizio No no Signor Riccardo Non mi dica niente Sono qui No 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 Non mi dica niente Ah signor Riccardo Sono qui che non ho neanche il coraggio Di guardarmi Dopo quello che è successo Io ce l'avevo detto Ce l'avevo detto Guarda quello che fai Guarda che ce ne pentiremo Ma cosa vuole signor Riccardo Quello lì è un benedetto uomo Che quando si mette una cosa in testa E lui E lei non E lei non Sì Dalantuomo sa Onesto come lui Non ce n'è un altro Ma nega in un bicchiere d'acqua Ma O si spaventa di niente Eh sì signor Vede signor Riccardo Sì sì Eh lo so Lei ha ragione Io non so Non so come Quel benedetto uomo lì Si era messo in testa Che lei facesse la corte Alla mia metilde Oh Cosa vuole Io gli dico Lui non mi sente Io parlo Lui grida E fa tanto Combina tanto Che dà il vattene A questo povero Cesarino Sa poverino Che Scontenta sa Scontenta Fa piangere la mia metilde Che Innamorata sa Innamorata di suo Cugino Non vuol sentir parlare E d'altro Gigi Lengua Lengua Perdo un buon partito Per le tue Per le tue Ciaro E qui Facci un po' Che Cesarino Un po' Cesarino Un giovanotto Che è un'altra perla Un'altra perla E che io Te l'ho sempre detto Dagliela A tua figlia A tua nipote Te l'ho sempre detto Dagliela Dagliela A tua figlia Non vedi poverino Non lo vedi lui Come diventa magro E guarda lei Come piange Sempre per suo cugino Guarda Guarda Piangi e piangi Mi tocco Mi tocco Per vedere Se sono io O se sono mio frattolo Michela Andiamo via Cesare Metilde Mentre io sono Tanto contenta Non vorrei Vederti piangere Piangi Cesare È un po' Troppo tardi No? Io sto a vedere Mi ti do Andiamo Signor Cesare Ma non ci dite niente Eh no Cosa ci volete dire? Cesarina ha ragione Ne ha mille Mille ragioni È tutto per te Eh? Sì Tutto per me Tutto per me Ah Metilde Andiamo di là Andatevi a nascondere No Andatevi a nascondere Andiamo di là Andiamo di là Nella nostra Stanza Prende Internet Stanza Ma che faccia Ma che faccia Ma che faccia Che ha la Gigia Ma che faccia Ah ma Gigia Io non ti conoscevo ancora Gigia Eh non faccia Non faccia Che Se dai Non faccia Tant'era E l'altro Fa sangue E l'altro Non faccia Che non senta Nemmeno più La carta vetrata Garantita Cesare Va là Cesare Che non vedi l'ora Ma andiamo Coraggio E buttati salami Metilde Se potessi credere Che sei Veramente Pentita Eh prendi L'ampro Non dovrei Ma ti voglio Troppo bene Ti ho sempre voluto Ti ho sempre voluto Tanto di quel bene A questo ragazzo qui Siete un gran bravo Giovanotto Che l'ho sempre detto Io Cesarino Vi consegno una perla Oh si Che si assomiglia Alla mamma E dunque Evviva gli sposi E la commedia E' finita E qui E qui ci vuole Una morale Non metto la morale Ce la faccio io Faccio a sentire Voi altri Venite Oh Caccia Caccia Non so per l'aria E strappuntini Quelli lì Venite un po' Che voi altri due State mi a sentire Voi altri due Quando avrete Dei bambini Dove hai Ma Stefano Non si dice dei bambini No Eh Quando avrete Delle bambine Ma papà Né bambini Né bambine Cosa volete fare Dei paracani E allora E allora state Mi a sentire Quando avrete Dei paracani Quando avrete Dei bambini Guardate bene Quello che fate E abbiate Per massima Sacrosanta Che un buon marito Non si trova mai Con di intriga E con di manesi Ma col saper Dirigere il cuore Dei figlioli Con la ragione Con l'esperienza Bravo Sì Stefano Ha proprio ragione E tu lì che è morto Napoleone Un par le il Un parle Un parle Grazie a tutti.